Siamo con Alessandro Giannessi, autore di una grandissima prestazione qui a San Benedetto contro l'Ajovic. Alessandro, le tue impressioni a caldo sul match? Un ottimo match, sono molto felice di come ho giocato e sono stato bene in campo, oggi quindi sono soddisfatto di questo, ho lottato bene e è andata bene. Senti, sei il secondo italiano a conquistare i quarti di finale in questo torneo, dopo Fabiano, il prossimo turno giocherai contro Martin, ci hai giocato qualche altra volta? No, non ci ho mai giocato, è un giocatore molto duro, quindi sarà una battaglia anche domani, speriamo vada bene. Ok, grazie mille. Grazie a te.